buongiorno a tutti allora magliettina del gigione perché ormai credo che sia ah no c'è ancora tutta la giornata di domenica oggi quindi magari qualche altro video con la magliettina del gigione si farà ancora sponsor del gigione si fa per dire eccolo qua c'è lungo eccolo qua c'è di tutto di più mettiamo via ripeto non mi danno nulla è un amico quindi ho detto dai ti faccio qualche video ti sponsorizzo un attimo poi magari tra una settimana prossima magari in qualche video lo vedrete ancora comunque ragazzoli olanda svezia campionato europeo femminile partita che mi è piacicchiata tante belle giocatrici non solo tecniche ma anche estetiche dal tonde con la svezia e l'olanda capisce a me di topa ce n'è però nei primi 25 minuti non è che succede nulla la cosa più più eclatante se mi passate il termine lo scontro in area 3 che mi ha ricordato quando mi sono fatto malissimo con una giocatrice olandese costretta a uscire e si pide dopo anche la portierina dell'olanda costretta a uscire ma non per lo scontro ma perché in un rinvio si è fatta la stroppetto lo stroppetto alla coscietta di pollo credo è che comunque ha fatto il rinvio e poi non sai neanche rinviare vabbè entrata la ragazzina 22 anni tutti preoccupati oddio entra la ragazzina cosa farà cosa non farà e infatti poverina dopo dieci minuti circa prende gol ma non è colpa sua perché azione sulla fascia destra l'aslani si beve la la sua diretta avversaria con tunne mette il classico pallone basso in mezzo le due giocatrici a centro dell'area si spingono a vicenda nessuna dei due la prende la portierina è tagliata fuori perché c'è davanti i due armadi e quindi non può andare sul pallone che passa il pallone arriva sul secondo palo alla anderson che si rende conto di essere in area tra il dischetto del rigore leggermente spostata sulla sinistra della porta però c'è in area di rigore tra il dischetto del rigore è l'area piccola controlla la palla chiama come si suol dire il portiere femminile della squadra olandese all'uscita riesce incontro lei ha la freddezza di controllare il pallone calciarlo un attimo prima che questa possa andare giù la palla infatti gli passa sotto la gamba perché lei stava scendendo con la gamba per impedirgli il tiro ma ha calciato un attimo prima quindi quando mette giù la gamba il pallone è già passato ci prova sulla linea di porta una delle difensore della squadra olandese ma la palla è già entrata e comunque anche toccandola va a finire contro la rete vicino al palo quindi 1 a 0 per la svezia 35esimo minuto più o meno 35 36 e così termina al primo tempo 1 a 0 per la svezia che devo dire globalmente ha meritato quel vantaggino lì poi l'azione dell'arlani è tanta roba nella ripresa non si fa in tempo a iniziare che dopo sette minuti l'olanda pareggia perché c'è un pallone il classico pallone al limite dell'area lo vuoi smistare su una compagna sulla fascia interviene in scivolata un difensore una difensora svedese per impedire al pallone che vada sulla fascia invece cosa fa glielo passa centralmente alla rord che è bravissima vede il pallone che arriva non ci pensa due volte va sul pallone calcia subito e curucu la portiera svedese anche lei rimane curucu perché non se l'aspettavo un calcio da lì ma appena dentro l'area di rigore eccetera subito secco veloce perché il tiro non è angolatissimo e se andate a vedere termina sulla tre quarti alla destra della portiera quindi è un tiro sul centro destra davanti alla porta alla sinistra alla destra del portiere centro destra del portiere o se preferite alla sinistra di chi tira però è un centro sinistra non è proprio all'angolino ma è stata talmente veloce l'azione che non ti aspetti perché comunque passaggio laterale interviene al difensore che da passaggio laterale diventa passaggio centrale questa che è al volo palla che passa in mezzo anche a una difensore che è lì di fianco che ha provato a intervenire lei probabilmente la portiera della della svezia la vede all'ultimo momento quando si tuffa ormai la palla è andata quindi olanda svezia 1 a 1 l'olanda ci crede un attimino di più ci provicchia ma dura poco perché poi la svezia ha ripreso a macinare il suo gioco a provarci però bisogna dire che la ragazzina 22enne il suo l'ha fatto delle buone parate l'ha fatto l'olanda c'ha quella mediema mi sembra che si chiami mediema che è un attaccante bella robustotta forte brava eccetera che ha sempre seminato un po il panico nella difesa svedese però l'hanno contenuta abbastanza bene l'hanno quasi sempre costretta a passare il pallone alle compagne ma erano sempre palloni da libidine che però nelle compagne non hanno sfruttato alla fine bisogna dire che il pareggio è giusto la partita è stata simpatica simpatica se mi passate il termine ben giocata dalle due squadre si vede che sono due squadre belle toste sono due squadre belle toste vedremo con portogallo e svizzera come si comporteranno è un gruppo c e i bello equilibrato in questo in questo momento è perché secondo me si sono affrontate le due migliori e si sono affrontate le due outsider tra di loro adesso bisognerà vedere quando le due outsider andranno a sfidare le migliori che cosa combineranno perché capite benissimo se le due migliori cominciano a 3 4 a 0 come è successo negli altri gironi a sto punto l'Handa e Svezia si giocheranno al primo posto per differenza reti avendo pareggiato conterà la differenza reti quindi diventa importante quanto vinci con portogallo e svizzera oppure portogallo e svizzera saranno sorprendentemente vincitori nelle sfide con Olanda e Svezia la vedo dura però non si sa mai partita mi è piaccicchiata anche se ripeto nei primi 25 minuti ero più il tempo che mandavo avanti perché è presente quando ci provano ci provano ci provano ma alla fine quando arrivano al limite dell'aria escono fuori delle ciofeche o dei cross o dei tirettini che il portiere o esce o se no ci pensa la difesa da spingere ad allontanare proprio sul più bello perché c'è sempre qualcuno in mezzo ai maroni che sul più bello ora respinge o l'allontana o anticipa il cross il cross il cross allontanato vabbè poi c'è stato lì appunto quell'azione della slani libidine che tunnel cross basso palla che passa e lì è stata bella come azione mentre invece il gol della rorda è stato bello per la per l'esecuzione la velocità di esecuzione perché lì è botta di fortuna c'è la tua compagna sta passando al pallone sulla giocatrice sulla fascia interviene la difendente però passa a te entrando in scivolata e tu sei brava però a tenere a distanza difensore che ti avvicino è a calciare di destro bene incrociando e come si suol dire prendendo il tempo al portiere al portiere comunque bella partita andiamo a vedere un attimino le statistiche i tiri sono stati 9 a 11 quindi molto meno rispetto all'altra partita precedente che 17 a 7 22 però alla fine a 22 20 a 24 siamo lì nello specchio della porta sono 3 dell'olanda e 4 della svezia quindi 9 a 11 per la svezia i tiri totali in porta 3 a 4 sempre per la svezia il possesso palla è 49 per cento l'olanda 51 svezia quindi più equilibrato di così si muore cioè manca il 50 50 però siamo lì 6 a 3 e corner per la svezia ripeto partite equilibrate io queste due squadre le vedo favorite su portogallo e svizzera il portogallo è più tecnico ma credo che non sia altrettanto potente fisicamente come olanda e svezia la svizzera è più potente ma meno tecnica rispetto a queste squadre quindi sulla carta io credo che olanda e svezia si giocheranno il primo e il secondo posto non credo che ci saranno dei massacri in olanda portogallo e olanda svizzera e svezia portogallo e svezia svizzera cioè non penso finiscano 4 a 1 4 a 0 cose simile però credo che uno o due gol di scarto queste due squadre a portogallo e svezia potrebbero anche darle non ci metto la mano sul fuoco perché nel calcio ogni partita fa storia se l'episodio ti può cambiare tutto però io vedo olanda e svezia favorita in questo girone ma non in maniera esponenziale o esagerata vedremo cosa succederà io intanto vi ho ragguagliato su questa partita che non mi è dispiaciuta l'altra è finita 2 a 2 questa 1 a 1 sono tutti risultati belli divertenti eccetera vedi giocare del discreto calcio ecco per intenderci vedi anche poche pianistei pochi pochi reclami ecco se mi passate il termine proteste eccetera giocano loro giocano poi che il livello non sia barcellona real madrid o manchester city manchester united per integgio manchester city liverpool lo sappiamo benissimo però sono partite che si lasciano guardare ecco certo mandi un po' avanti se la vedo in diretta me la gusto in diretta me la guardo senza problemi se viceversa è indifferita se posso quando ci sono i falli laterali eccetera che sono lì che giochicchiano nella loro metà campo capite che anche se mando avanti non è che si veda chissà che cosa di eclatante che uno dice no ma non hai visto quello lì e però non puoi dare un giudizio giusto perché non hai visto i passaggini che si sono fatti nell'area di rigore nella propria area di rigore nella propria metà campo e dovevi guardare perché ragazzi dai comunque io vi saluto vi ringrazio per stasera concludiamo così nella giornata di per stanotte nella giornata di oggi prima di iniziare poi alle 4 a fare inter live vi farò ahimè un video ancora sulla tragedia della marmolada che concluderà purtroppo anzi fortunatamente speriamo che non ce ne siano altre però vi ragguaglio sulla situazione finale poi ci sarà sicuramente qualche altro video di call news un altro video di news e poi inizierò a fare lo scrivano fiorentino dalle 4 alle 7 che faccio un'oretta in più perché nella giornata di sabato sono successi un po' di cosine allora ho detto dai vi faccio un'oretta in più non è che non ho fatto le mie due ore nelle due ore non sono riuscito a fare quello che avrei voluto perché sono successi un po' di cosine ma non succede mica niente detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao ciao